Tares o Tarsu, sta di fatto che una tansa dovremo pagarla. In attesa del varo definitivo della Tares, il Comune di Pescara cerca di trovare la soluzione meno onerosa per i cittadini, tenendo conto delle possibili rateizzazioni e delle scadenze di altri oneri fiscali come l'Imu. Prima rata a maggio, spiega l'assessore ai tributi del Comune di Pescara, Filippello. E' stato approvato un DL l'8 aprile che dà la possibilità ai Comuni di far pagare i cittadini il nuovo tributo Tares in funzione della Tarsu dell'anno precedente. Che cosa abbiamo previsto noi? Dato che la Tares prevedeva i pagamenti con scadenza di gennaio-aprile, luglio-ottobre, abbiamo previsto che per il mese di maggio si pagherà il 50% della Tarsu versata complessivamente l'anno scorso. Abbiamo previsto scadenza di seconda rate che corrisponde al 25% della Tarsu dell'anno precedente a settembre. Presumibilmente, perché dobbiamo ancora decidere, dovrebbe essere il 20 dicembre il saldo. Come dire, la classica situazione all'italiana, tra quale ci sembra aver compreso, non si sa davvero come se ne verrà fuori, nel complessivo quadro di assoluta incertezza in cui ci troviamo. La conferma viene proprio dall'assessore, che sul destino della tassa, di quanto dovremo pagare, così conclude. Su questo non possiamo dire niente, perché o si paga il saldo, sarebbe la Tarsu l'anno precedente con la maggiorazione, oppure entrerà ufficialmente in vigore la Tares e quindi ci saranno delle revisioni, delle tariffe, perché bisogna coprire il 100% del costo del servizio.